E signori e benvenuti in questo nuovissimo video del signor ferro, oggi siamo qua in ranked, o meglio no, cosa dico in ranked, siamo qua ragazzi in un torneo insieme ad uno casuale rago, ovvero Akan YFN che tra l'altro è livello 556, raga secondo me questo è fortissimo, penso uno dei primi tornei che faccio di sempre con una persona col completamento, tra l'altro secondo me in passato neanche si poteva fare una cosa del genere, però il bro mi piace, il bro mi piace, è livello altissimo, tra l'altro, oddio, vuole lui forse il pomo. No, sì, no, non credo, in ogni caso vabbè, noi dobbiamo andare a vincere sta partita raga, quindi mi raccomando brother, prendi armi, prendi roba buona perché qualsiasi persona che avremo davanti dobbiamo demolirla completamente, ok? Dobbiamo presto, ne prendo volentieri, ok, thank you per i due scudini, mamma mia, no raga mi piace, il bro sa giocare, il bro è uno che ne sa, ne sa, ne sa, ne sa, e attenzione perché io finalmente ho trovato qualcosa di differente da un pompa, perché avevo trovato solo pompa, mi tiro questo, no brother, tu mi continui a pingare, ti ringrazio, ma io voglio soltanto, oddio, mi ha lasciato il pompa che amo, è un grande invece, pingami qualsiasi tipo di pompa perché veramente sono troppo forti, ci siamo raga, si può andare a pushare, ci stanno persone qua in teoria, ok, fermi, 31, uno di vita, ok, sì, 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 come ha fatto a non morire? No way, bro, bro, ti prego, uno di vita, a meno di uno di vita, non ci credo raga, sono morto un monpollo, comunque lo distrugge il mio micro, ne sono sicuro, dai ma raga, meno di uno, brother, ti prego push, a uno di vita davvero, a meno di uno di vita, brother vai, let's go, sei deciso di andare a distruggelo, ce la fai, fidati di me, io confido in te, veramente poco, fallo cadere e lo distruggi, bravo, 52, ancora un colpo, mamma mia, guardalo quanto, ragazzi è fortissimo, Ma ragazzi, ma me la claccia lui sta partita, e let's go, signori, oh mio Dio, che mega partitozza, che è iniziata benissimo, il bro è un grande, è iniziata non bene ma di più, mi piace, mi piace, mi piace, secondo me lui è la persona che ci porterà alla vittoria di questo torneo, ne sono sicuro, devo ammettere, ragazzi, che io me la sono giocata veramente, veramente male, infatti mi dispiace perché avrà dei brutti pensieri su di me, quando fidati, bro, sono forte, giuro che adesso non pusho a caso, ma t'aspetto, sono bravo, so giocare, in ogni caso, nel frattempo, mi raccomando, codice ferro, like, iscrizione, Al canale fondamentale, ma soprattutto, codice ferro, so come un sacco di voi si dimentica, quando ogni 14 giorni scade, dovete ricordarvi di reinserirlo sempre, se no, ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma, eh, no, non siete dei veri fan, eh, sì, è giusto dirlo, se volete supportarmi al massimo, codice ferro per tutti, in ogni caso, il bro, il bro è un grande, fermi che, fermi che gli facciamo un applauso, fermi che gli facciamo un applauso più che meritato, e ora, raga, basta, è il momento di dimostrare che anche noi non siamo qua per scherzare, ma anzi, siamo qua, per portarci a casa questa partita, sì, vedrete, raga, ne sono certo che andrà bene, andrà a finire molto bene questo torneo, il bro mi sta splittando mazze, no, 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 bro, ma, sei, ma perché è così tanto gentile? Però, ma se sei un iscritto, ti amo, se ti aggiungo gli amici, ma anche senza essere un iscritto, ma, anzi, fermi un attimo, vi posso mandare l'amicizia? Aggiungi amico, ma, raga, un grande, ve lo giuro, è veramente, veramente un grande lui, allora, se lo merita, bravo, bro, sei un grande, sei un grande, mi piace, e siamo pure amici, signori, capito? Non solamente ci andremo a vincere questa partita, ci andiamo pure a prendere un'amicizia, un nuovo amico abbiamo, allora, ci sta, ah, qua a corte di doom, che mi aveva, tra l'altro, pingato anche lui, il medaglione, io direi, paura di nessuno, bro, andiamo a distruggerlo, ma davvero paura di nessuno, dobbiamo avere, eh, perché questi, secondo me, comunque, sanno giocare, quindi, cerchiamo di stare un attimo attenti, io c'ho pure le volle scudo, da dove arrivano? Eh, dovrebbero essere letteralmente, ah, no way, raga, no way, raga, fermi, no, no, raga, dobbiamo scappare tantissimo, così ci moriamo, così ci moriamo tantissimo, devo trovare un medikit, raga, devo trovare un medikit, no, no, brother, ti prego, scappa, bende un medikit, adesso mi servono, ok, piano, il bro è andato in high, devo provare ad aiutarlo da qua dietro, eh, devo provare ad aiutarlo da qua dietro, fermi, e appena lo vedo, raga, 30 white, sì, sei un grande, bro, sei un grandissimo, ok? Ok, l'ha fullboxato, distrutto uno di vita, no, bro, siamo troppo forti, io e il bro siamo troppo forti insieme, ok, piano, fermi, da dietro, sì, è killato, ragazzi, e let's go, oh, mio Dio, brother, siamo dei grandi, aspetta, tieni prima questo, mini per te, eh, mamma mia, raga, mi piace, mi piace, eh, il bro sa giocare, il bro sa giocare, e, ve lo giuro, se dovessimo andare a vincere sta partita, con sto bro, è incredibile, A parte gli scherzi, raga, sarebbe davvero, davvero incredibile, perché giocare, cioè, trovare un giocatore casuale così bravo, con la quale sto giocando così bene, è incredibile, cioè, dobbiamo farci dei video, ragazzi, se questo video dovesse raggiungere i 3000 like, probabilmente, proveremo a farci un video insieme, spero soltanto lo sia inglese, perché il mio inglese è abbastanza pessimo, però, vabbè, imparerò l'inglese solo per te, bro, te lo prometto. Tra l'altro, raga, ci sono altre persone che stanno fightando in questa zona, quindi direi, certo, andiamo verso la safe, ma, proviamo pure a fare qualcosa di, di bello a questi, cioè, diamogli una bella sistematica, tra l'altro, stiamo continuando a prendere punti di top, cioè, vi giuro che sta partita qua faremo 100 punti, eh, non voglio dire che arriviamo in top con una partita, perché, eh, diciamo che siamo un pochettino in ritardo nel torneo, ma, se dovessi trovare un medikit per caso, no, vero? Medicozzo da qualche parte, non me lo dai, gioco? Diciamo che sarebbe stata un'ottima cosa, però, vabbè, ci accontenteremo delle bende, va bene, ci accontenteremo delle bende, eccoli, stanno qua, stanno qua, piano, 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 guardali qua davanti, ok, fermi, 80, oh, no, Wayne, l'ho preso per pochissimo, no, hanno sparato il mio amico, oddio, 81, no, raga, ok, li sto distruggendo, però il mio bro deve scappare, il mio bro deve scappare, non è messo, no, 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 ma vuole pusharli, lui, ma, ma è mattissimo, Ne ha ucciso pure un altro, mi sa, ok, vabbè, arrivo anch'io, bro, dobbiamo essere in due, o in due o nulla, oddio, mi ha chiamato un altro ancora, c'è qualcun altro per caso? Vabbè, bro, ma sei devastante, cioè, bro, veramente sei un grande, te lo giuro, ma ti stimo tantissimo, sei troppo più forte, oh, guarda qua, se vuoi prendere qualcosa, prendi pure, tutto quello che vuoi prendere te, giustamente, mi dà pure un flopper così, nel chill, vabbè, eh, non so, bro, gioca da solo, cioè, ti dico, sei troppo forte, te lo giuro, ok, fermi, flopper, flopper che lanciamo al mio amico, ok, Ok, meritato, me lancio un altro là davanti e vado avanti in safe, ok, buono, raga, cioè, non so cosa dire, ve lo giuro, è, letteralmente, è, è troppo forte, bro, guardalo, tra l'altro che grande che è tornato a darmi una mano a lanciare le cose, ovvero flopper e medikit, No, raga, ve l'ho detto, cioè, davvero è un grande questo, è davvero, davvero un grande, ve lo giuro, oh, ok, me lo stavo tirando per sbaglio, buono, raga, siamo in safe, io direi, tiriamoci i medikit e teniamo i flopper, o non lo so, in realtà è ugualissimo, possiamo fare qualsiasi cosa, ok, io lancio questi, bam, bam, lancio pure questo flopper e questo medikit, fermi, ok, perfetto, ok, ci siamo, siamo in safe, signori, con tutto, sette kill per noi, letteralmente, quasi tutte sono del nostro amico, Quindi, è veramente un grande, cioè, no, ok, lui si vuol tirare quello, io mi tiro questi due, però, io mi tiro questi due, sì, forse è meglio, però, secondo me, secondo me è molto meglio, così che almeno possiamo ottenere i medikit, eh, fermi che gli lascio questa e gli faccio capire che al 50%, non lo so se, vabbè, lo posso ottenere comunque, li tira lui in medikit, è un grande, buono, 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 tra l'altro la prossima safe è bella lontanina, quindi direi, iniziamo ad andare verso la safe e, vediamo cosa mi dice, no? Ok, buono, 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 si va, andiamo a devastare un po' di altre persone, tra l'altro, spero di fare anche io qualche kill, raga, perché, ve lo giuro, cioè, mi dispiace, Si sta facendo tutto il nostro amico, guardalo, guardalo, bro, che fa il coso, che fa un po' di triple edit, bello, 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 mamma mia, guarda che bomber, let's go, it's my turn, va, 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 no, oh, cavolo, che brutta figura, vabbè, va bene, va, bro, li portate vincer, te lo dico io, quindi andiamo a pushare, oddio, c'è un medaglione, hanno letteralmente lasciato giù un medaglione, raga, oddio, il bro ma è spaventatissimo, il bro ma è spaventatissimo, ok, sì, sì, c'è gente, c'è gente, allora, fermi, ah, no, ok, sta attirando le persone, mi sa, sta attirando le persone, però, secondo me, dai, qua, ragazzi dove ci sta, ah, no, forse mi sta mirando dietro il medaglione, giustamente, però dite che non ci sta una persona in queste zone, dai, sono giganti, raga, almeno una persona, ma non ci credo che non ci sia nessuno, oddio, gente là che faita, gente là che faita, si va, guardalo, bro, quanto è cattivo, ok, no, fermo, questo devo prendere, oddio, ce ne sono due, tra l'altro, entrambi full, mi sa, esatto, let's go, let's go, let's go, eccoli, no, raga, ci hanno visto, questo è un problema, eh, ok, no, raga, devo prendere i like subito, sennò questi sono una bella rottura di scatola, eh, sono una bella rottura di scatola, eh, ok, bro, ah, l'ha già ucciso, cioè, cioè, bro, ma fagli un grid, ragazzi, ma è fortissimo, cioè, ve lo giuro, eh, io vorrei dargli una mano a fare qualcosa, ma letteralmente li distrugge tutti lui, ok, potrei aver visto altre persone, raga, potrei aver visto altre persone, tra l'altro abbiamo letteralmente 62 punti di già, ok, sì, 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 c'è gente, raga, fermi, 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 è il shot al volo, no way, no, 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 raga, se ne è scappato, se ne è più o meno scappato, che fa, no, 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 bro, no, 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 ti prego, no, raga, è crashato, no, brother, ti prego, non me lo puoi dir così, eri la mia salvezza, no, il bro, raga, mi ha lasciato qua, io, io confidavo in te, eri, no way, raga, non ci credo, fermi, ok, lo devo vincere per lui, ok, 133, mamma mia, che bel colpetto che abbiamo tirato, eh, ok, fermi, Ok, bam, no, non l'ho preso, ok, vai, vai a pusharlo, ferro, dai che te lo mangi, per, per il bro, raga, devo farlo per, per colui che, che ci ha abbandonato, secondo me è qua nascosto a curarsi, eh, no, non è vero, cavolata, non è qua nascosto a curarsi, ottimo Niente, il bro è definitivamente crashato, ma, tranquilli, perché dopo abbiamo ancora tempo per un'altra partita e quindi ce l'andremo a fare provando a imitare, cioè, provandolo a imitare, sperando che sia crashato, perché se dovesse aver quittato, non lo accetterà mai l'invito, invece, qualora dovesse essere proprio crashato, magari tipo aveva le hack e l'hanno bannato Oddio, oddio, raga, eh, non lo so, comunque era fortissimo, c'è da dire che comunque era fortissimo, no, dai, non credo avesse le hack, dai, non voglio credere, era comunque livello 556 Ok, raga, ma è normale che io sto andando a pushare tutti? Siamo in un torneo ma non trovo gente, c'ho 13 persone rimaste, raga, la safe sembra anche piccola, ma non vedo nessuno, cioè, io, io sto letteralmente andando in giro senza tanti freni, raga, eh, cioè, io, io pusho, cioè, dove becco gente ci vado Il problema è che non becco gente, cioè, sarà la classica roba che sono tipo tutti in un punto, da qualche parte, eccoli qua, trovati, sono tutti qua, raga, secondo me Ah, no, all'isola, ecco dove sono, all'isola volante, raga, oh, tipo che vola qua? No way, raga, cattivo è questo? Ok Fermi No, raga, sono morto, vero? Sì, 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 ma c'ho che morto Sono mortissimo! Non posso giocare due contro uno, tra l'altro contro gente forte, dov'è il mio amico? Io volevo solamente il mio amico, raga, li potevamo distruggere questi Avremo vinto la partita! Allora, raga, seconda partita, siamo con Rudy13 per livello 268 Tra l'altro non si può vedere il posizionamento, i punti del torneo o altro rispetto ai miei Anche se a me me ne fa vedere che ho 0 in questo momento, ma ne abbiamo 70, oh Com'è possibile? Siamo tipo 20 millesimi nel torneo E non va bene questa cosa, volevo vedere i punti io Fiero di essere 20 millesimi in un torneo, vabbè, no, a parte gli scherzi It's time to andare al raft, raga Allora, ve lo dico, non sono mai lendato qua Secondo me ci moriamo subito, ma se dovessimo uscire Se, qualora dovessimo uscire, saremmo messi super, super bene Quindi, la proviamo, raga, zero paura di nessuno Tra l'altro, ragazzi, e io che il nostro amico Tra l'altro, ragazzi, e io che il nostro Bruno siamo letteralmente i primi Quindi, non ottimo a quello che viene dopo Devo prendere qua il pompa, raga, fidatevi in me Ok, se avessi preso, ovviamente, cioè, se un altro fosse andato prima di lui L'avrebbe killato, eh, perché va al pompa Oh mio dio, l'ho detto che non conoscevo sta zona Porca di quella vacca No, 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 raga, ok, mi devo fare lo scudone, eh Non posso rischiare No, no, boss, ti prego, bro, levati No, boss, è fortissimo Non voglio il boss Non voglio vaitare contro il boss Cioè, ma perché mi puscia così tanto, tra l'altro? Brother, ti prego Lasciami un attimo in vita Aiuto Devo andare dal nostro amico, raga Dobbiamo star vicino al nostro amico Per forza, non conosco sta zona e mi fa paura Ma, raga, ma Ma cos'è il più forte al mondo, sto boss? È fortissimo Ma guardalo No, raga, ma vi prego Ma no, ma no Vi giuro, raga, ma sto boss mi deve rompere le scatole per un secondo e sono contento Un secondo senza rompermi le scatole e siamo a posto Tra l'altro, vabbè, il nostro amico ha già quittato Ditemi voi com'è possibile, che infame Cioè, prova a rimanere un attimo a guardarmi No, magari riesco a clacciarla Cioè, cosa molto vorabile, eh Sicuramente la scheda gliel'avrei presa, l'avrei pure restato A questo punto invece ci conviene pushare Anche se siamo contro le coppie In un torneo Quindi ormai sarà abbastanza impossibile Questa è una guardia, quindi sti cavoli Andrò a pushare quello pingato, raga Oddio, qua c'è qualcuno Ok, fermi Ok No, 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 fermi Non deve ricaricare Ok, let's go Oh mio Dio, come l'abbiamo killato, quanto godo Ok, buono, buono, buono Mini per noi Subito me lo devi tirare, eh Subito, subito, mini Mi prendo pure sia l'assalto Che questo pompa, che sicuramente era meglio Tra l'altro è già ricaricato, quindi ottimo Buono Allora, me lo tiro un medikit E prendo un motosicolo per scappare Eh sì, è un'ottima cosa Eh no, non penso sia un'ottima cosa In realtà che abbiamo fatto Ma va bene comunque La sfiga, raga Molto, molto onestamente È che io in questo momento Non ho un compagno Quindi cioè, è normale che conto qualsiasi duo Io morirò Non posso farci davvero nulla Quindi mi devo stare qua e provare a pushare Nel mentre che fightano altri Cioè, io dovrò basare i miei fight Su quando fightano gli altri E posso entrare, diciamo, a rompere le scatole Ma è proprio l'unica cosa che posso fare, davvero Tipo qua adesso sto entrando In tutte le build loro Stronzata più grande Non si poteva fare E invece fermi Fermi, fermi, fermi Ma è tutto l'oro No, raga Ma non ci posso fare nulla È tutto, tutto l'oro Vi prego, no Non morire ferro Ok Ora è mio almeno Per un attimo dovremmo essere tranquilli Davvero per un attimo Per troppo poco forse Ok Allora, dimmi che qua ci sta un medikit No Vabbè, va bene comunque Non male Il tipo sta qua Ma vedete, il problema è che Se questi muri sono suoi E lui li edita, mi killa Ma in maniera molto tranquilla anche Quindi ricarichiamo Ok Ma forse sono uno contro uno però Probabile sono uno contro uno Un bell'undici se lo tiene E se lo prende tutto Ok Guardiamo qua sotto Ok, prendiamo anche qua, raga Pure pochi maz Beh, fidatevi di me Conviene attendere Ok, non piano Ok, non so quanto gli ho fatto Ok Buono, 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 buono Ok, buono, buono di nuovo Non ci deve pushare, raga Siamo morti Abbiamo 30 di vita Sto capendo la cosa migliore da fare, raga Devo uscire di qua Fidatevi di me No No, non è la cosa migliore Lui vuole arrivare da dove? Da sopra? Da sotto? No, 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 no Ho sbagliato Non volevo metterlo lì, lo giuro Fammi uscire Sì, vabbè No, 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 no No, 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 raga Ok, no Dove vado? No, è tutto No Sono morto Ok, 80 No, no, no No way No way No way Ma Che palle Allora, signori Nuovo game Siamo di nuovo qua Al raft Non so perché A quanto pare Piace tantissimo questa meta Alla gente che incontriamo In ogni caso Ho fatto uno dei land peggiori Che si potesse fare Ma ci stava un fucile a pompa qua Buono Prendiamolo subito Prendiamolo Dimmi che trovo dei mini qua Dammi un mino qualcosa Sì Oddio Ci sta pure una persona Ci stanno più persone Ce ne stanno troppe di persone forse Quindi piano Andare con il mio amico Dobbiamo almeno adesso essere in due E ti prego amico Aia Oddio Mi ha spottato Se si dovesse aprire qua Lo killiamo Ok Dove è andato? È andato sopra Vado a prenderlo No Hanno pushato il mio amico Ma dove? Ok Almeno l'ha killato Bravo, bravo, bravo Let's go Sembra sapere giocare il nostro amico Cosa sta facendo bro Ok Mi piace Mi piace il bro Io direi Io ti seguo Vai, vai dove vuoi Dato che io non conosco Ripeto questa zona Ok, qua ci sta un player No Sei andato dietro Oddio Ma guarda questi quanto corrono Loro conoscono la zona Io giuro Non capisco dove Vadano A uno di vita Ucciso Godo, godo, godo Mi prendo volentieri questo pompa Se posso Mini per lui Che è messo veramente male ragazzi Uno di vita Pompa per noi Mettiamo questo qua E ci siamo Mi piace Super, super buona raga Oddio però Piano Ci stanno tante persone qua Ok Devo prendermi solamente sto scudino Prendo gli scudini Io sono a posto No No, no, no Mi sa per tu Che cazzo Cos'è appena successo Raga mi si è aperto il pc intero Ma che Cosa vuol dire Vi giuro Mi si è aperto tutto Mi si è bloccato il gioco Dai Ma non posso morire così Io Vabbè mi stava crashando tutto Non dico nulla raga Tutto mi stava crashando Giuro che ero troppo Ero troppo carico Li avremmo killati tutti Vabbè confidiamo il nostro amico Sono sicuro che andrà a prendere la scheda Ci resterà E andremo a vincere sta partita Lo vedo abbastanza Lo vedo abbastanza casato No bro Sei da solo Devi prendermi solamente la scheda E scappare in questo momento Ti prego Di amicizia Proprio zero eh Cioè Ok invece fermi Allora La mia scheda L'ha presa Ora Ti posso dare un consiglio Bravo Devi andare instant Ok niente Non penso che il mio consiglio Serva Però c'è i muri indistruttibili Devi tirarti i muri indistruttibili Il prima possibile Piramide sali No bro Niente Direi che giocare con degli sconosciuti Non è stata la cosa più bella del mondo Se il primo raga Non l'avesse mai quittato Secondo me l'avremmo stravinta Quella partita In ogni caso Va bene Una kilcea siamo fatta Forse anche il nostro amico Ne aveva uno O addirittura due Quindi nulla Il test è andato Benino Cioè comunque abbiamo fatto amicizia Con un nuovo pro E quindi va bene In ogni caso Like esizione Codice ferro per il massimo supporto Ci vediamo al prossimo video Bella rega